Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova bellissima puntata di Dalla parte degli animali Buongiorno a tutti È quasi primavera Stella, è una bellissima domenica di sole e abbiamo in braccio due piccolini strepitosi, di chi si tratta? Questi due coniglietti che in braccio si chiamano Carota e Gianto Ciao Stella, sono qui nel mio fantastico studio Io vi do appuntamento a domenica prossima per una nuova domenica insieme una nuova domenica in famiglia, una nuova domenica Dalla parte degli animali